200 grammi di tonno 50 grammi di margarina vegetale 100 grammi di pomodori pelati 1 spicchio d'aglio 1 ciuffo di prezzemolo 1 bicchiere di vino bianco secco Sale e pepe quanto basta Come preparare il sugo al tonno Tritate il tonno e mettetelo in un tegame con la margarina e lo spicchio d'aglio Fate cuocere a fuoco lento e mescolate accuratamente fino a che la margarina non si sarà sciolta Unite il vino bianco e quando sarà evaporato Aggiungete i pomodori pelati Privati dei semi e sminuzzati Lasciate cuocere lentamente ancora per mezz'ora A cottura ultimata togliete lo spicchio d'aglio e aggiungete il pepe e il prezzemolo tritato Questo sugo è particolarmente indicati per maltagliati e maccheroni Grazie per la visione